No, non recuperiamo, anzi perdiamo qualcosina, qualche problemino di piccola entità, però comunque non saremo quelli di Mantova a livello numerico sicuramente. Chi manca? Manca sicuramente Palmiero, sicuramente Di Grazia, Luca Greco sta continuando la sua fase di recupero. Insomma, Marafini ha già avuto un contrasto, quindi si è fermato anche lui, insomma qualche piccolo problemino rispetto alla partita di Mantova. Memo è tra quelli che potrebbe giocare, ultimamente si è andato un pochettino meno rispetto agli altri, però comunque è un giocatore che dobbiamo portarlo ai suoi standard e giocando chiaramente migliora la sua condizione. L'etriente delle ultime sfide è un'ipotesi, però abbiamo anche il Cisco che può essere della partita. Insomma, l'Empoli è una squadra fatta per vincere, forse anche per stravincere, visti i nomi che abbiamo letto, che ha. Quindi chiaramente è anche una sfida stimolante, semmai anche per vedere come abbiamo detto fino ad oggi, noi a che punto siamo, abbiamo anche voglia di metterci, insomma di provare, di vedere che cosa sono gli altri, che cosa siamo noi, quindi abbiamo voglia di andare in campo appunto con queste squadre, che insomma fino ad adesso il fatto dell'Amichevoli e la Coppa Italia col Manto, è una partita sicuramente importante, ma l'Empoli rappresenta uno stimolo in più sotto tutti i punti di vista. Ma allora noi ogni volta che giochiamo poi chiaramente riguardiamo alcune cose, le partite che abbiamo fatto, per cui andiamo a valutare un po' tutte le cose. È chiaro che quando in questo periodo non ci fossilizziamo su un singolo reparto, su un singolo giocatore, è chiaro che la condizione fisica su alcuni elementi magari già si vede un passo simile al campionato, ad altri un pochettino meno, quindi valutiamo e analizziamo tutte le cose, per cui credo che ci sia da migliorare in tutti i reparti. Ovviamente facciamo anche delle cose buone, chiaramente quello che in allenamento facciamo e che vogliamo mettere in campo durante la partita. Si vede, i ragazzi ci provano e questa è la cosa che più mi rassicura. È chiaro che abbiamo tantissime cose da migliorare e lo sappiamo. Beh, sicuramente nella gestione palla, in alcune situazioni in cui noi vogliamo fare delle cose, proviamo delle cose, poi in campo è un po' per l'avversario, un po' anche per il momento non riusciamo a farle. Sicuramente la costruzione da dietro, che è una soluzione che noi usiamo, a volte non riusciamo a renderla magari efficace per come noi vorremmo. E poi chiaramente nel reparto di metà campo è offensivo, il reparto è assemblato da poco, per cui è chiaro che lì si cercheremo di perfezionare appunto i meccanismi che dopo un mese e mezzo non possiamo avere. Come dicevo prima, l'attacco è un reparto che bisogna comunque migliorare nei movimenti eccetera. È chiaro che in base ai giocatori che ci sono bisogna adattare un vestito per loro. e insomma Brunori può fare assolutamente quel ruolo, è un ragazzo, è un giocatore che per atteggiamento veramente potrebbe fare qualsiasi tipo di ruolo e insomma può fare l'attaccante esterno chiaramente chiedendogli di occupare più l'area rispetto ad un esterno classico. Maniero è fermo, è chiaramente un giocatore che si è andato tantissimo e bene in questo periodo ma ha risentito un po' di questi carichi, non ha niente di grave però chiaramente è un po' affaticato e quindi non ce la fa. L'idea delle assenze non mi crea un problema in quanto non posso avere delle scelte, è quello il mio problema perché chiaramente chi va in campo sono convintissimo che farà la sua parte alla grande però è chiaro che in questo momento non puoi scegliere su 20, puoi scegliere su 15 ovviamente è quella un po' la mia problematica oggi magari di fare dei cambi e non hai tutta la tua rosa per poter scegliere appunto su tutti i giocatori ma chi andrà in campo farà sicuramente il massimo, questi sono convinti assolutamente. Sì, non sono né pessimista né ottimista, sono abbastanza realista è chiaro che tutti gli allenatori penso vorrebbero avere la rosa il primo giorno di ritiro è chiaro, quindi è quello che anch'io avrei voluto ma è chiaro che non solo il Pescara ma anche le altre squadre hanno tempo per poter fare mercato per cui tipo noi aspettiamo in alcune situazioni che magari oggi potrebbero sembrare impossibili è chiaro che in questo momento poi qualche infortunio di troppo che si è messo sulla nostra strada ci è un po' complicato alcune situazioni però non sono preoccupato, non posso essere preoccupato nella mia condizione dove ho approcciato con tanto entusiasmo non mi spaventa avere anche difficoltà altrimenti fare un altro mestiere dal mio punto di vista credo di essere d'accordo appunto con i miei illustri colleghi che appunto il mercato debba finire prima di iniziare il campionato o comunque nell'immediatezza, insomma un giorno dopo, lunedì dopo ma non due settimane diventa una cosa complicata Ma sono più o meno le cose che ci siamo detti 3-4 giorni fa, settimana scorsa sono ruoli numericamente che servono in mezzo al campo come vi ho detto l'altra volta ne abbiamo pochi e per caratteristiche davanti siamo incompleti e appunto dietro il discorso del terzino che abbiamo fatto è uno di quei ruoli dove possiamo migliorare la rossa prendendo qualcuno per quantità non so se ne arrivano due mezzali o tre mezzali o cinque attaccanti però i ruoli sono questi grazie